Un saluto agli amici di Viver, sono Pietro Favorito, lui è Domenico Magliero e abbiamo creato insieme Lady Mafia, un fumetto ambientato in Puglia e in modo particolare a Foggia. Ci è piaciuta questa idea di creare un fumetto noir che parlasse dei posti che noi conosciamo bene come appunto Foggia, la nostra città, proponendo una storia che però abbia un appeal se vogliamo nazionale perché come obiettivo quando abbiamo pensato a Lady Mafia speravamo di riuscire a creare una storia che potesse appassionare un po' tutti i lettori. E' lui che ha dato vita a Veronica Dedonato, la Foggiana, protagonista del fumetto, lei che come parecchi hanno fatto notare ricorda vagamente la risposta femminile al diabolico. Ci farebbe molto piacere se leggeste il nostro fumetto, vendita nelle edicole della Puglia ed è in distribuzione nazionale in tutte le fumetterie, quindi da qualsiasi parte d'Italia è possibile acquistare il nostro fumetto, distribuito tra l'altro dalla Star Shop che è il leader nel settore.